Francesca benvenuta, grazie per essere qui e per aver accettato il mio invito. Ciao Luca, grazie mille a te e buonasera a tutti. Eccoci, oggi come ho detto in premessa rapidamente parleremo di tre temi importanti, innovazione, sviluppo sostenibile ed economia circolare con un occhio anche all'agenda 2030 dell'OMU, i 17 obiettivi sullo sviluppo sostenibile. Prima di entrare nel vivo però mi parebbe piacere che tu ti presentassi al nostro pubblico e cominciassi un po' a raccontarci l'origine, la genesi e la missione dell'Innovation Village. Sì, allora io mi occupo di business development per una società che si chiama Knowledge for Business appunto, che è una società di consulenza ed è principalmente la società che da sette anni ormai produce una manifestazione appunto Innovation Village di cui tu anche prima parlavi e che hai introdotto. È un'avventura iniziata appunto, diciamo, da lontano e che è partita anche da, come dire, una fase iniziale piccola, prototipale per poi diventare una manifestazione anche più grande. Tu, diciamo, la conosci bene anche perché abbiamo avuto modo di incontrarci incontrarci spesso lì. Innovation Village negli anni ha sempre avuto come tema centrale quello ovviamente dell'innovazione sostenibile, cioè è una manifestazione particolare perché in realtà non è una fiera sull'innovazione. È un luogo, come dicevi tu prima, uno spazio, a noi piace definirlo proprio come luogo perché se teniamo a mente i discorsi appunto sui non luoghi e su questi spazi che poi non sono nulla, in realtà Innovation Village è proprio un vero e proprio luogo perché è fatto da relazioni ed è un posto in cui le persone si incontrano, i saperi si incontrano, principalmente si incontra la ricerca scientifica, il sapere tecnologico e poi anche il far bisogno delle imprese. E tutto avviene anche chiaramente in un contesto in cui le istituzioni sono presenti e Innovation Village è una manifestazione promossa tra le altre cose dalla regione Campania, dall'assessorato all'innovazione, ma è una manifestazione che ha dietro dei partner istituzionali di ricerca, quindi ha dietro l'Enea, più che dietro a fianco l'Enea, il CNR, ma anche la stessa Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS, ed è una manifestazione appunto che ha il grande merito però di non rimanere una manifestazione istituzionale perché diciamo questa è la parte che poi anche ci piace di più e che sentiamo più nostra. È una manifestazione fatta con il mondo della ricerca, fatta con le piccole e medie imprese, ma ormai anche con quelle più grandi con cui noi stiamo interagendo proprio perché effettivamente riusciamo a intercettare quello che di nuovo si muove nelle università e nei centri di ricerca e che poi ci diciamo spesso l'innovazione rimane nei cassetti in qualche modo. Invece con Innovation Village noi cerchiamo di portarla fuori, di capire effettivamente anche rispetto a quelli che sono i principali temi e trend di innovazione, quali possono essere le innovazioni più interessanti e anche più vicine al mercato e di intercettare in questo modo anche invece la domanda del mercato. Quindi è un luogo Innovation Village dove succedono diverse cose. Ci sono appunto, non si va a comprare qualcosa con cui si torna a casa, ma si torna a casa con un bagaglio di sapere, di progetti, di relazioni e che poi nel tempo sono diventate, noi lo abbiamo visto in questi anni, sono diventati dei progetti, sono diventati delle realtà, diciamo, dei progetti sviluppati da imprese e industrie e sono poi entrati a far parte anche di progetti a qualità più ampie. Quindi appunto è una manifestazione in cui abbiamo dei momenti di racconto dell'innovazione, dei momenti più interessanti, più innovativi, abbiamo diciamo un incontro con le polisi e abbiamo anche tavoli di lavoro in cui effettivamente si costruisce questa collaborazione. E poi abbiamo un momento che è l'Innovation Village Award che è un premio che abbiamo da quattro anni che effettivamente rappresenta un'azione di scouting a livello nazionale molto importante sui temi e sull'innovazione che incrocia e che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del millennio. Agenda 2030, sì, infatti tu parlavi di luogo, parlavi di Innovation Village che nasce come luogo di incontro e di confronto tra i diversi attori dell'ecosistema dell'innovazione nel caso specifico regionale. Quindi parliamo di un evento che nasce sul territorio campano ma che nel corso del tempo con i numeri che ha raggiunto è diventato un punto di riferimento in tutta l'area del mezzogiorno. Oggi questo luogo che diciamo nei primi anni aveva una sua, come posso dire, declinazione fisica perché si traduceva in incontri reali, azioni di networking diciamo presso una serie di location anche particolarmente affascinanti si è dovuto come parecchie attività nel corso di questi ultimi due anni si è dovuto un attimo rimodulare seguendo poi quelli che sono i nuovi paradigmi anche in termini di ibridazione degli eventi. Qual è stata poi l'evoluzione e anche il cambio e la modifica degli schemi che dal 2020 diciamo ad oggi e poi chiaramente guardando anche un pochettino il futuro hanno caratterizzato poi questo evento. Questo è un tema che diciamo immagino tutti gli organizzatori eventi si stiano ponendo e hanno affrontato in maniera diversa. Diciamo che fortunatamente la comunità degli innovatori è il nostro luogo quindi effettivamente questo ci ha molto aiutato anche nella fase in fase pandemica. Io credo che un po' come tutti diciamo quando ci siamo trovati in pandemia noi abbiamo avuto tantissimi incontri, tavoli di lavoro con ricercatori, aziende, in realtà non si è fermato da questo punto di vista non si è fermato nessuno, anzi c'era proprio una voglia di non perdere, di non perdere tempo, di non perdere occasioni, di rimettersi in gioco, di continuare a vedersi in qualche modo. Anche il renome altre manifestazioni o altri aggregatori sostanzialmente di stanze di una comunità. Noi abbiamo nel periodo della pandemia cominciato un po' a sviluppare una serie di workshop quindi dedicati alla comunità molto tematizzati su diverse questioni quindi diciamo raccogliendo poi tu sai noi abbiamo fortunatamente un abitato tecnico-scientifico veramente ampio con grandi menti che sono generosissime nei nostri confronti e quindi in qualche modo abbiamo iniziato a sviluppare questi workshop amatoriali in qualche modo, un po' come tutti cercando di capire come funzionasse questo mondo, quali erano i momenti migliori per parlare, per fare delle attività insomma di animazione e questa cosa fortunatamente insomma è stata molto interessante e proficua sostanzialmente per cui ci ha aiutato nella programmazione anche delle altre attività. Attualmente abbiamo sviluppato e questo è un punto di forza su cui ci riserviamo sempre di lavorare in maniera più forte, abbiamo un canale on demand che da quel momento ha cominciato a svilupparsi con più attenzione in maniera più concentrata per cui ovviamente tutto quello che accade è accaduto nel digitale e anche in presenza è oggi consultabile ed è un momento anche importante poi per la formazione insomma da rivedere e da utilizzare e diciamo l'anno scorso noi abbiamo ricominciato ad andare in presenza perché appunto l'edizione dell'anno scorso e tu eri presente e come tutti eri molto felice cioè quindi questa dimostrazione del fatto che il digitale è fondamentale è stato utilissimo è ormai una presenza per tutti quanti noi no perché comunque è un qualcosa che ci permette di approfondire e di collegarci e di collegarci però appunto come tu eri presente effettivamente c'era proprio un desiderio di ritornare in presenza e di ritornare a vedersi. In quell'occasione eravamo ancora a porte chiuse in pochi e abbiamo sviluppato grazie anche a Federica Web Learning un come dire una vera abbiamo creato una vera e propria regia di questo evento per cui diciamo si è potuto mantenere con due appuntamenti e però poi la pandemia ci ha insegnato che questa comunità è vivace e che vuole essere molto protagonista per cui anche quest'anno per noi Innovation Village è diventato un programma che non si limita a due giornate ma diciamo nella sua versione più centrale si struttura in due appuntamenti uno primaverile e uno autunnale quindi uno che ci sarà il 9 maggio e l'altro che ci sarà invece il 25-26 ottobre e poi diciamo in mezzo si sono creati una serie di eventi proprio di comunità per cui abbiamo fatto il 24 marzo il primo incontro legato al vino e all'innovazione che c'è proprio venuto dal territorio come richiesta quindi con due realtà come Preactivitas e Malazè abbiamo messo in piedi questo focus che è stato veramente molto interessante di cui poi faremo dei seguiti perché abbiamo intercettato una bella domanda e un settore molto interessante e man mano insomma diciamo abbiamo acquisito altri appuntamenti altri che faremo anche nell'ambito di idrofida capitale italiana e la cultura portando il nostro contributo di innovazione e quindi di comunità di innovatori a temi della cultura e appunto proprio della cultura nella linea di Procida. Tra l'altro parlando di Procida tu apri anche un altro tema che poi è anche quello caratterizzante della puntata Procida si candida oltre a essere capitale della cultura un vero e proprio laboratorio di sostenibilità. Assolutamente. Quindi uno dei temi quindi ritorna il tema della sostenibilità che è un po' il centro della puntata oggi innovazione e sostenibilità come due elementi come due capisaldi sostiene per la verità Donald Clark che è un imprenditore e anche diciamo professore dell'Università of Derby di Inghilterra che l'innovazione è tale solo quando è sostenibile quindi di fatto questi due termini e dare nuovi significati alla parola di innovazione. In questa in questa dicotomia tra i termini innovazione e sostenibilità Innovation Village ha creato come anticipavi tu precedentemente nel 2019 un premio dell'Innovation Village Award sull'innovazione sostenibile che è giunto alla sua diciamo credo quest'anno la sua quarta inizione ora partiremo con la quinta oggi abbiamo al termine della puntata un esempio diciamo che è il vincitore di ben due premi perché poi ha avuto anche un premio diciamo della critica chiamiamola in questo modo e volevo fare una focalizzazione con te proprio sulla sull'esperienza di Innovation Village Award quindi il contributo dell'innovazione tecnologica alla sostenibilità e all'economia circolare quindi se ci racconti qualche qualche esperienza anche alcune istanze che sono provenienti dal diciamo dal mondo della ricerca dal mondo dell'impresa che hai avuto modo di intercettare in questi quattro anni. Sì questa è stata una cosa molto interessante perché noi abbiamo lanciato una pool che è chiaramente molto larga no? Quindi in accordo con l'ASBIS abbiamo diciamo cominciato a fare un lavoro che è sicuramente anche di disseminazione e di animazione cioè quindi far conoscere questi obiettivi e diciamo dalla loro dichiarazione generale iniziare a capire poi nella sostanza in che cosa si trasformano però nella sostanza in cosa si trasformano a partire proprio da quelle che sono le innovazioni che vengono pensate e la cosa interessante appunto è proprio questa cioè intercettare il momento in cui effettivamente l'innovazione viene pensata già direttamente per essere sostenibile dove diciamo la sostenibilità ovviamente qui sono stati bravissimi i nostri valutatori insomma tanti tantissimi valutatori cioè non è semplicemente un'azione di greenwashing ma bisogna innanzitutto interrogarsi per cosa sia questa sostenibilità e quindi ovviamente ogni ambito ha diciamo un impatto di sostenibilità diverso quindi abbiamo una sostenibilità ambientale, una sostenibilità sociale cioè è una sostenibilità che si compone di tanti tasselli alla fine e questa comunità degli innovatori effettivamente è stata davvero rispondente diciamo noi l'anno scorso allora l'innovation village è una call che tra altre cose sarà lanciata la nuova edizione a breve quindi per il 9 maggio che faremo la prima edizione di innovation village avremo poi un racconto della call che sarà lanciata e in realtà è una call nazionale la cosa incredibile perché abbiamo avuto una quantità di risposte incredibili cioè la call era indirizzata non a idee ma a innovazioni già vicine al mercato quindi qualcosa che doveva già essere prototipata che in qualche modo appunto potesse poi essere anche pronta a essere trasferita quindi un'innovazione un impatto quasi immediato e certo e noi abbiamo ricevuto l'anno scorso 178 candidature che sono tante per un premio appunto lanciato da noi ma anche appunto qui la cosa interessante è stata la risposta anche dei partner privati perché poi chiaramente ci può essere l'offerta di innovazione e di incrocio con la sostenibilità la cosa interessante è che hanno anche invece risposto dei partner privati che hanno messo in palio dei premi dei premi in denaro e alla fine diciamo penso che l'anno scorso si sono mobilitati 60 mila euro più o meno in premi che insomma è stato un risultato anche interessante ma è stato appunto importante vedere tante anche aziende che mettevano a disposizione dei premi in questo ambito. I settori sono diversi, noi abbiamo diviso la call in una serie di ambiti quindi aggregando anche alcuni degli obiettivi per garantire una valutazione più omogenea e i finalisti alla fine abbiamo avuto questi dieci finalisti tutti di altissimo livello poi dopo sentirete Nando che è stato il vincitore non solo dell'Innovation Village Award proprio del premio dell'Innovation Village Award ma anche di uno dei premi speciali messi a disposizione da un'azienda, dall'azienda Opus proprio appunto riconoscendone il valore e noi abbiamo valutato anche grazie a questa comunità di valutatori esperti anche l'altro giorno ti dicevo questa cosa che è stata l'altro grande sforzo collettivo di Innovation Village cioè ogni area tematica aveva il suo gruppo di valutatori esperti che erano schillati sulla valutazione quindi sia nel proprio ambito tecnologico di competenza tecnologica e di business ma poi soprattutto nella valutazione dell'impatto che è l'altro elemento importante e abbiamo avuto delle innovazioni in ambito agricolo ma questo anche negli anni diciamo dalle prime edizioni di Innovation Village l'agricoltura è stata, l'innovazione in agricoltura è stata una costante che ci ha portato al premio per esempio Evia, la start up appunto di sensoristica che diciamo ha fatto anche delle cose meravigliose e poi anche quest'anno ce ne sono state gli altri anche in questo ambito. Si sono presentate appunto anche alcune aziende cioè per esempio penso sempre in finale alla presentazione di Solo Perpetua che è la matita, è una sorta di joint venture tra due aziende ultra innovative e sostenibili che hanno utilizzato da un lato appunto il materiale di scarto e le matite per farne una nuova e diciamo che non si consuma mai e dall'altro lato anche la gomma che sostituisce la plastica quindi ricordo anche le coltivazioni idroponiche, quindi era un altro dei progetti interessanti tra l'altro che ha anche sfiorato un po' la rappresentazione artistica, ricordo ancora quel video molto emozionante dove si vede l'evoluzione nel tempo attraverso coltivazioni idroponiche se non sbaglio era il prezzemolo, se non ricordo male era la cultura del prezzemolo che sembra simulasse una danza nel tempo, quindi ha toccato anche degli elementi di poesia chiamiamoli in questo mondo. Sì e poi appunto diciamo anche tante altre cose, i nuovi materiali, cioè veramente appunto noi ora abbiamo un bagaglio e un gruppo di innovazioni che continuano secondo me a essere una grande ricchezza che infatti poi continuiamo a mettere in contatto con chi ci chiede perché veramente ecco sono di un livello, tutte di un livello molto molto alto. Grazie a tutti.